Nella città di Roma, capitale d'Italia, si starebbe pensando ad adibire a creare una zona rossa per i cinghiali, con delle reti di contenimento a livello interrato, interdizione delle zone di accesso ma anche i punti di prevenzione territoriali, con una pulizia proprio continua da parte di quelli che sono gli amministratori della città di Roma da tutti gli eventuali rifiuti. Il Campidoglio va a varare dunque un piano anticinghiali dopo il lavoro del tavolo tecnico in cui sono state studiate le misure per andare a contenere le visite proprio di questi simpatici animali che spesso e volentieri si vedono, si avvistano nella parte nord della capitale. Parliamo di Trionfale, parliamo di Montemario, dunque proprio dove lì, prima valle, dove lì, diciamo ci sono forse anche più campagne. Tra le passeggiate nei parchi, nelle strade, tra le auto vicino alla scuola si possono vedere questi simpatici animali e questa però convivenza diventa una convivenza forzata e può diventare una convivenza addirittura molto pericolosa. Pensate, una donna a Baldwin di 44 anni è stata infatti colpita di recente da una manda di cinghiali che erano letteralmente imbizzarriti. E' una donna riportato anche degli ematomi per colpa di questi cinghiali che l'hanno colpita. Vi ringrazio in primis per la visione in segundi, per l'ascolto di questo video oggi, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.